Diritti dell'infanzia. Siglato a Palazzo Lascaris un protocollo d'intesa tra Unicef e Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza per promuovere iniziative volte a far conoscere i diritti dei minori, per celebrare la giornata nazionale per l'infanzia il 20 novembre e per programmare incontri formativi rivolti a chi sul territorio opera per e con i minori. L'accordo della durata di due anni impegna le parti a operare in sinergia in azioni che spaziano dal promuovere i contenuti della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza all'organizzare attività per i minori, dallo scambio di buone pratiche al coinvolgimento delle autorità competenti per segnalare situazioni di difficoltà. L'unione tra tutte le istituzioni e le realtà che operano per il benessere delle future generazioni non può che migliorare l'operato di tutti, ha dichiarato la garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza Rita Turino. È un'occasione direi scontata perché è scontata la collaborazione che deve sussistere tra queste due figure, quella del garante e quella dell'Unicef. Entrambe queste organizzazioni sono votate al benessere e alla tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e dei ragazzi che vivono nella nostra regione. Quindi direi che non poteva che essere così. La presidente Unicef Piemonte, Maria Costanza Trapanelli, che ha espresso soddisfazione per la firma del protocollo proprio nell'anno del trentesimo anniversario della Convenzione, ha ricordato che bisogna mantenere alto il livello di guardia. Dobbiamo concentrarci in modo particolare sui bambini che vivono situazioni di disagio e sono a rischio di esclusione sociale e poi anche fare in modo che i ragazzi e le ragazze siano protagonisti del loro presente ma soprattutto del loro futuro. La Convenzione sui principi dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Unicef si basa su quattro principi fondamentali. La non discriminazione, la priorità dell'interesse del minore in ogni legge, iniziativa o situazione problematica, il diritto alla vita e allo sviluppo del bambino, l'ascolto delle opinioni del minore in tutti i processi decisionali che li riguardano.